Al Castrum di Giulianova si affrontano due compagini con una situazione di classifica totalmente diversa, ma entrambe hanno ottenuto un successo nell'ultimo turno. La Torrese è reduce da tre vittorie consecutive, mentre il Villa 2015 ha ottenuto il secondo successo stagionale battendo davanti al proprio pubblico per due reti a uno a Virtus Cupello. Al sesto minuto ospiti inaspettatamente in vantaggio. Sul lancio apparentemente in luogo di Dipentima, Camaioni combina un pastrocchio facendosi ingannare da un rimbalzo e spedendo incredibilmente la sfera nel sacco. La reazione della Torrese arriva al tredicesimo, Contini che penetra in aria e cerca al centro Graunberg che non trova la deviazione vincente. Sul corner seguente arriva invece il pari. Calcio d'angolo di Mastrilli e palla spedita in rete da Di Federico al secondo centro stagionale. Crescono i padroni di casa con Mastrilli costante spina nel fianco, col suo sinistro, da cui al venticinquesimo nasce la rete del 2 a 1, realizzata dall'Eston e Graunberg che al trentunesimo mette nuovamente la palla nel sacco raccogliendo una conclusione a giro di Antichi finita sul palo, ma l'assistente Carnevale annulla per fuorigioco. Tutto buono invece al trentanovesimo quando Mbop incorna da un nuovo corner di Mastrilli, battendo per la terza volta Gian Giacomo. Con le immagini di Flavio Forcellese passiamo alla cronaca della ripresa. Riparte meglio la Torrese che però al tredicesimo si complica nuovamente la vita con Camaioni che si fa rubare palla da Piccozzi che trova il 3 a 2. Il Villa prova a crederci ma il ventottesimo Restanio si incune a nere di rigore, finendo a terra dopo un contatto con un difensore avversario. Per Nazzicone è rigore, Di Lallo trasforma trovando la rete del definitivo 4 a 2 che taglia le gambe agli uomini di Vitale. Mister Cristofari qualche disattenzione di troppo ma è arrivata una vittoria tutt'altro che scontata. Sì, assolutamente sì, hai detto bene tu. È stata una vittoria sofferta, una vittoria che ci siamo complicati da soli, andando subito sotto con un piccolo infortuno da parte del portiere, dopodiché siamo stati bravi a ribaltarla. Nel secondo tempo siamo rientrati col piglio giusto, in controllo della gara. Un altro episodio ha rischiato di compromettere questo risultato che per noi era di fondamentale importanza ma ci tengo a sottolineare l'atteggiamento dei ragazzi che non mi è assolutamente piaciuto. Siamo stati presuntuosi, arroganti, non abbiamo affrontato la gara come dovevamo tutta la settimana, sono stato lì per cercare di tenere alta l'attenzione, le partite bisogna vincerle sul campo. Abbiamo affrontato un villa organizzato, un villa che è venuto qui a giocarsi la sua nesta partita, sapevo che trovavamo una squadra viva, così è stato e quindi la vittoria non è stata assolutamente scontata, l'abbiamo sudata, come è giusto che sia in un campionato d'eccellenza, però insomma bisogna ripartire dal lavoro, dal sacrificio e dall'umiltà. Mister Vitale, dopo un ottimo avvio di gara avete cercato di dare del filo da torcere a questa torrese riuscendoci a tratti. Sì, abbiamo avuto un ottimo inizio, abbiamo provato in tutti i modi contro una squadra forte, organizzata, la classifica parla chiaro e noi abbiamo provato con i nostri mezzi, con la nostra organizzazione di metterli in difficoltà. Tratti siamo riusciti, alcune volte meno, purtroppo oggi abbiamo preso due gol che di solito su palline attive non prendiamo e cambia un po' l'inerzia della partita. Avevo chiesto in settimana di dare continuità, continuità di lavoro, con la speranza di avere continuità di risultati. Purtroppo siamo venuti qua in casa della Torrese a viso aperto perché comunque siamo andati in vantaggio, abbiamo provato le nostre giocate. Sapevamo di affrontare una squadra forte, però con i nostri mezzi abbiamo provato a tenere botta ogni loro azione.